Allora, continuiamo il nostro discorso perché quello che è importante per i nostri amici è conoscere come stanno le cose. Se i Cinque Stalle hanno vinto le elezioni è perché i Cinque Stalle presero, ti ricordi bene, posizione contro la volontà del governo dell'uomo di Firenze, che è l'uomo che rappresentava la curia fiorentina, che è altra cosa la curia fiorentina dalla curia bolognese. Sono due diverse tradizioni. Una volta esistevano i vescovi principi, tant'è vero che una tipica espressione di questa identificazione del potere clericale cattolico tedesco con il potere statale è stata Ratzinger. Quindi queste sono cose che noi dobbiamo sapere. Lo scontro che c'è stato tra Ratzinger, espressione del clero tedesco, germanico e Francesco, uomo gesuitico, è lo scontro tra un cattolicesimo radicato e un cattolicesimo volante di carattere gesuitico, un cattolicesimo senza patria che è tipico dei gesuiti. Su questo argomento c'è un'altra cosa da riflettere, già che ci sono, ho un libro qui che ci racconta anche questo aspetto, perché è un aspetto che ritorna sistematicamente. Il libro è questo e sentiamo qualcosa che riguarda l'impero romano. Giustiniano inoltre, nonostante gli sforzi fatti, non riuscì a unificare la chiesa latina d'Occidenza, che sempre più si poneva sotto la guida del Papa di Roma, con la chiesa greca ortodossa. E questo fu un importante ostacolo ideologico per la riunificazione del Vecchio Impero. La chiesa occidentale non avrebbe accettato la supremazia dell'imperatore nella sfera religiosa, particolare questo molto più importante di quanto non appaia a prima vista. Gli argomenti di teologia nei quali si intromise Giustiniano non sembrano in realtà molto interessanti. ma rivestivano invece un significato ben più profondo di quanto possa apparire. La chiesa cristiana affermava che indipendentemente da ciò che gli uomini dovevano come sudditi ai loro sovrani, solo la sua autorità aveva il diritto di stabilirne gli obblighi, poiché Dio era l'unico sovrano degli uomini. La chiesa e lo Stato in Occidente avrebbero dovuto quindi imparare a convivere fianco a fianco, a volte in maniera amichevole, a volte conflittuale, assistendo di volta in volta alla supremazia dell'una o dell'altra parte. Questa è la realtà delle lotte per le investiture, delle lotte che in Italia ha coinvolto a tutta la storia che va dal Medioevo al Rinascimento. Tutti gli aspetti politici, geopolitici, artistici, ideologici, culturali di ciò che è avvenuto in Italia dal 1250 circa al 1600 è un aspetto della lotta contro dell'autodifesa del potere temporale, dalle pretese della Chiesa di controllare anche il potere temporale. Dico queste cose in conclusione perché questa faccenda, la guerra che c'è oggi in Ucraina, in buona sostanza riprende questi aspetti fondamentali dello scontro tra la Chiesa latina e la Chiesa bizantina, la quale Chiesa bizantina si trasferì dopo la conquista dei turchi di Bisanzio, si trasferì a Mosca facendo diventare Mosca la terza Roma. Di queste cose non parla mai nessuno. Quando di recente Francesco I, l'attuale Papa, ha mandato un suo messaggero più o meno segreto per trattare con la Russia la cosiddetta presunta pace in Ungheria, pace non voluta dall'Occidente perché deve spurgare l'eccesso di produzione di armi e quindi ci mettono in mezzo la vita di quei poveri diavoli di Ucraini che sono sempre stati sacrificati agli interessi dell'Occidente. E da parte russa si è rifiutato qualsiasi accordo col Papato per una ragione di rivalità ideologica e concettuale che risale alla fine dell'impero bizantino, quando cioè Mosca diventò la terza Roma. Queste cose non le dice nessuno, racconto e questo serve per i nostri amici per capire che nella televisione italiana ci raccontano solo delle grandi cazzate perché c'è una tradizione di inimicizia e di avversità. Ad esempio, per quale ragione la chiesa greco-bizzantina non ha mai avuto degli eretici da far morire sul rovo? E questo è importantissimo concettualmente. Per quale ragione? Su queste cose noi dobbiamo riflettere. Passiamo la parola a Orazio che continuerà quello che ritiene. Avevo chiuso? No, vai avanti. Ma avevo chiuso prima? No, no, vai a vedere ma non mi pare. Allora, aspetta un attimo. Se non riesco a leggere. Sì, qualche minuto sì. Allora, ricapitoliamo quello che stavamo leggendo già in situazioni precedenti. Porca miseria. Eccolo. Allora, parlavamo un paio di video tre fa dell'uomo liquido di Bauman. E a un certo punto il video si è interrotto perché non era finita la batteria, era finita la memoria. E quindi la memoria era satura e non ha registrato più. E allora ricominciamo da dove, più o meno dove era arrivata la settimana scorsa. Perché così si capisce bene l'influenza e la tragica influenza, la tragica modalità degressiva, regressiva che oggi ha assunto la società attuale, sempre meno valori, ma soprattutto sempre meno capacità di difendere questi valori da parte di persone che non hanno personalità, non hanno personalità, identità ideologica, identità etnica, identità tecnologica, filosofica... E' sessuale. E' sessuale. E' sessuale. Tant'è vero che si parla di caos liquido. Allora, ricominciamo da dove eravamo più o meno rimasti. Nella società contemporanea anche le relazioni sono diventate ormai fluide. Come si ricorda in Amore liquido, il capitale sociale è sempre più di tipo bridging, che getta ponti su più reti sociali e non serra in piccoli gruppi limitati. E' l'individuo neoliberale, il cui successo si misura in base al numero di progetti in cui riesce ad impegnarsi, a inserirsi e a compenetrarsi. E' l'imprenditore che può dirsi grande solo se condivide le proprie esperienze con il maggior numero di persone. Ricordiamoci gli influencer, come la Chiara Ferragni, che non meriterebbe manco di essere nominata, ma così la gente capisce con chi vogliamo trattare. E' l'unica che ti viene in mente, oltredutto. Oltredutto, certo. Tanto è presente nelle televisioni, ovviamente ha delle protezioni, può essere anche protetta da un Sassoon. Certo. In quest'ottica è sempre l'agire razionale rispetto allo scopo di Weber a prevalere che imprigiona gli individui in una gabbia d'acciaio. La solidità dei rapporti umani, dice appunto Bauman, tende ad essere considerata una minaccia, perché limita il movimento, la libertà di movimento, e riduce la possibilità di accettare le opportunità che si presentano in futuro, poiché se si è già definiti in una forma solida è impossibile adottarne una diversa, a meno che non si assuma che i nostri confini siano liquidi. E' proprio come ogni liquido che si adatta alla forma del contenitore in cui è contenuto, allo stesso modo facciamo noi adattandoci alle diverse situazioni in cui siamo chiamati a districarci quotidianamente. Anche il sesso deve essere liquido. E' certo. Cioè non devi sapere, è di che puntano loro, non devi sapere di che sesso hai, non devi essere, attenzione, la cosa che importa a loro non è la definizione di un particolare sesso, è che tu non devi essere certo del tuo sesso, che è differente. E' certo. 42 sessi codificati, immagina un po' che bailame che c'è, bailam, diciamo, ecco, no? Nel suo libro Consumo dunque sono, Bauman definisce il consumo come un ciclo metabolico di ingestione, digestione ed escrezione, è un aspetto permanente ed ineliminabile della vita svincolato dal tempo e dalla storia, un elemento inseparabile della sopravvivenza biologica che gli esseri umani condividono con tutti gli altri organismi viventi. Il consumo dunque è un processo naturalizzato, ma soprattutto è privato, individuale, egoistico. E' un fenomeno che va di pari passo con l'ascesa del capitalismo. Se prima infatti gli individui consumavano per soddisfare un bisogno immediato, ora è l'accumulazione che comporta una soddisfazione temporanea. Per dirla con Smith, o Schmidt se preferite, l'individuo è orientato al consumo di beni singolo, di uno status sociale riconoscibile, apprezzabile e condivisibile. Futuro e passato sono insignificanti. Ma l'esempio sono le interviste che hanno fatto in televisione in questi giorni, che adesso fanno gli sconti d'estate, no? I negozi. L'intervistano ragazzine, ragazzotti, donne, eccetera, su quello che sono intenzionati a comprare e praticamente il 90% vuol comprare un abbigliamento. Quindi praticamente tutto torna perfettamente. Futuro e passato sono insignificanti, perché solo il presente è ad assumere... ...perché solo il presente è ad assumere importanza o in un'ottica del qui ed ora, ic e nunc, dove il movimento è condizione necessaria di inclusione. L'uomo, a differenza delle piante, non ha radici, è libero di muoversi nello spazio senza obbligo di maniera radicata al suolo. In base a questa visione, Bauman si è occupato anche dei flussi migratori e qui affrontiamo anche un tema, chiediamo alcuni aspetti dei flussi migratori, affermando che ogni epoca ha avuto la sua ondata migratoria e su questo non ci piove. A cambiare nel tempo sono state solo le destinazioni e le tecnologie, così il povero cerca di rientrare negli schemi imposti dalla società consumistica dei ricchi, ma fallendo nel suo sedentativo si sente frustrato, abbattuto, escluso e vittima di un trickle down effect, cioè di una trappola ad effetto ritardato, che non gli permette mai di raggiungere la vetta di una cascata in continua mutazione. L'individuo è sempre più diffidente, e quindi ecco la difficoltà dei rapporti interpersonali, è sempre più diffidente, e i primi a fare le spese sono i poveri e gli stranieri, entrambi considerati capri e aspettatori contro cui rovesciare la propria angoscia, il terrore indotto nel dubbio dell'ignoto, del fatto che non è percepibile e non è qualificabile e omologabile quello che già conosciamo. Intendiamoci bene che ci sono migrazioni e migrazioni, le migrazioni barbariche nell'impero romano hanno cambiato il quadro generale della popolazione, si sono inseriti, quelli hanno tenuto duro, ma questo succederà anche adesso? Attenzione, bisogna vedere fino a che punto, perché queste immigrazioni di africani non sono uguali alle migrazioni dei longobardi o degli ostropoti, lo dice anche Bauman, è chiaro, però ci sono altro tipo di migrazione, la migrazione in massa nelle Americhe, ha comportato lo sterminio della popolazione locale, perché non aveva le armi per difendere. Per Bauman, la vita dei poveri impedisce ai non poveri di immaginare un mondo diverso, dunque la loro presenza è funzionale per le leggi del mercato, ma intimorisce ancora di più gli omologati, perché dice questa rappresentazione dei poveri e dei vagabondi, influisce e dichiara che è possibile una qualità della vita diversa, anche peggiore di quella che già si ha. La dimensione economica assume una posizione predominante nei confronti della dimensione politica, come abbiamo detto anche in altre occasioni, proprio perché le istituzioni si riscoprono a sue fatte e incapaci di reagire in una logica che pone al centro il mercato, quindi non è più la politica il centro della vita sociale, ma è il mercato, il mercato della vendita delle parti usate, dei bambini smembrati per venderne gli organi, degli uomini utilizzati per certi scopi a fini schiavistici, a fini di abuso e così via. Guardate che è il caso di quella bambina che è stata rapita e non si trova nulla, non trovano niente, è stata rapita in casa sua, pensate a questo. La dimensione economica quindi assume una posizione predominante nei confronti della dimensione politica, proprio perché le istituzioni si riscoprono a sue fatte e incapaci di reagire in una logica che pone al centro il mercato. E questo è il tema di solitudine del cittadino globale, altro libro di Bauman, il quale ritiene che è più appropriata per sé la definizione del consumatore rispetto a quella di cittadino, eppure il mercato, dice sempre Bauman, non persegue la certezza, né può evocarla e tantomeno garantirla e il mercato prospera sull'incertezza. Infatti lui ha sempre dichiarato, come un aforisma, che l'unica certezza del mondo attuale, postmoderno, è l'incertezza della capacità di conoscere cosa è certo e cosa non è certo. Eppure il mercato non persegue la certezza, né può evocarla e tantomeno garantirla. Il mercato prospera sull'incertezza. La flessibilità richiesta dal mercato comporta il rischio costante, ma l'individuo competitivo dovrà essere capace di assumere le conseguenze e immune dai vincoli riuscirà a calarsi in nuove situazioni più appetitose, come dice la critica che sta facendo questa analisi. È un continuo prevalere della dimensione privata su quella politica sociale. Ecco perché questi sono i nostri nemici, questa società attuale è la nostra nemica personale, non solo ideologica. Allora, prevalere sulla dimensione privata su quella pubblica sociale, il cui recupero, secondo lo psicologo polacco, rappresenterebbe una soluzione al, come dice Bauman, al male di vivere. L'agora, infatti, è lo spazio in cui i problemi privati si connettono in modo significativo, vale a dire non per trarre piaceri narcisistiche o per sfruttare a fini terapeutici la scena pubblica, ma per cercare strumenti gestiti collettivamente abbastanza efficaci da sollevare gli individui dalla miseria subita privatamente. In questo senso è necessaria l'opera degli intellettuali i quali devono riappropriarsi della politica senza nascondersi in retoriche e filosofie lontane dalla realtà. Che sta a dire questo? Sta a dire che bisogna cominciare a considerare che quello che è privato non è solo privato, è diventato di una dimensione globale, quindi bisogna pensare nel privato ma agire nel pubblico e nell'internazionalismo come diceva anche l'internazionale socialista l'internazionale socialista era una visione internazionale di replica dell'interesse nazionalistico non il contrario la motivazione dell'annullamento nazionalistico in funzione di un globalismo come quello attuale. Ricordiamoci che la filosofia greca nasce nell'agorà ricordiamocelo bene Certo, certo quindi il singolo nel complesso nel tutto l'olistico nel tutto oppure nel foro romano è lo stesso Certo ruolo e la funzione ben diversa dall'homo economicus è internazionalistato è internazionalizzato il cosiddetto prosumer come diceva appunto Bauman diciamo concentrando i due concetti consumo e produco produco e consumo l'analisi del novecento è fondamentale per Bauman il secolo scorso è per il sociologo polacco pieno di orrori a causa delle dittature che lo hanno interessato questo è minimalista sta cosa Bauman sappiamo da che provenienza etnica proviene quindi sappiamo anche di fondo alla radice di tutto il suo essere come la pensa effettivamente ma questo prescinde da queste considerazioni che sono perfettamente condivisibili e perfettamente attillate al sistema postmodernistico attuale allora a causa delle dittature che lo hanno interessato a ciò segue quella che Castel aveva definito esplosione della società salariale e qui poi affrontiamo il tema che ha portato all'umiliazione del lavoro il quale nella società odierna non assicura più uno stato stabile la frammentazione della condivisione lavorativa come abbiamo accennato anche in un'altra occasione si accompagna al fallimento dello stato sociale che aveva invece caratterizzato il fordismo maturo cioè quello che diceva John Ford all'epoca all'inizio del novecento uno stato nazione in grado di proteggere e provvedere ai propri cittadini comprese le fasce meno ambienti e questo lo scenario di paura liquida cioè la paura dell'ignoto che avevamo detto e la paura di ciò che già si ottiene è ottenuto e nella paura di perdere nel corso del tempo in grado di proteggere e provvedere ai propri cittadini comprese le fasce meno ambienti e questo è lo scenario di paura liquida e nel 2014 appunto Bauman nel futuro liquido nel libro il futuro liquido i quali hanno per soggetto un individuo costantemente afflitto insicuro paradassualmente atrofizzato di una società che impone il movimento ciò è comprensibile alla luce di quanto detto precedentemente il cittadino non ha più protezioni o assicurazioni e sente incombere in un futuro costellato di pericoli ignoti la liquidità del presente coinvolge anche la cultura e l'informazione in merito alle quali Bauman si è espresso proprio recentemente con il libro per tutti i gusti la cultura dell'età dei consumi è il titolo i fruitori sono onnivori in grado di digerire tutto e trattenere poco la cultura in particolare è un grande supermarket in cui gli scaffali non rimangono mai vuoti dal quale si entra e si esce in base alle proprie preferenze per Bauman la cultura non illumina più nessuna caverna la caverna di Platone abbiamo detto e deve però soddisfare i sogni di fuga di pubblici eterogenei e di consumatori allora qui in queste poche frasi sono racchiuse una serie di problematiche esistenziali della società moderna dell'individuo moderno anzi meglio postmoderno che sconvolge qualunque mente sentiente e diciamo coerente nel senso che riesce a coordinare alcuni concetti e a renderli diciamo compatibili gli uni con gli altri qui di compatibile non c'è niente in tutti questi teoremi minimamente espressi appena accennati in queste poche parole che ho detto attualmente in questo momento ci si ritrova a dover combattere che ti dice combina a dover combattere con una evidenza una emergenza evidente diciamo assolutamente definibile e percettibile a una prima indagine che però confligge in maniera drastica addirittura annichilibile con un'altra un altro concetto individuabile immediatamente rilevabile nello stesso contesto che è contrapposto in maniera uguale e contraria a quella che si è appena evidenziata per cui rimane una forma di immobilismo si perviene a una forma di immobilismo concettuale e poi comportamentale che impedisce di prendere decisioni determinanti per la posizione sul campo di una linea difensiva da parte dell'individuo e anche dal complesso degli individui nella società che permetta di poter incominciare a ricostruire un'identità diversa su questa base diversa che si è venuta a creare in questi ultimi decenni e ancor più si verrà a creare nei prossimi decenni con l'intelligenza e l'invasione non tanto sotterranea dell'intelligenza artificiale dei cyborg degli androidi che entreranno in competizione e creeranno delle situazioni logiche e conflittuali con quelle precedenti e con quelle attuali che abbiamo appena descritto quindi è questo il grande problema dei pensatori se ne esisteranno dei pensatori in prossimo futuro perché è anche da dubitare che possano esistere dei pensatori che in qualche modo riescano a rimarginare questo strappo della logica della coerenza dell'intelligenza del pensiero della filosofia quindi oggi ci troviamo alla fine possibile e non auspicabile ma temuta del pensiero filosofico siamo anche di fronte a questa situazione ecco il perché i nostri politici non assumono posizioni non assumono posizioni perché non hanno le capacità diciamo che non hanno le capacità non hanno le capacità sono obbligati a non farlo dal padrone che li controlla non riuscirebbero comunque a individuare le varie problematiche e a trovare soluzioni di sorta e quindi noi ci dovremmo per forza scontrare fisicamente o non fisicamente ma con un conflitto di interessi assolutamente insanabili con i nostri vicini i nostri conoscenti i nostri parenti con l'altro diverso da noi e questa guerra fratricida creerà un immobilismo sociale intellettuale personale e collettivo che abbiamo detto tante volte oramai mi ripeto continuamente ma sarà una strage prima illusoria e poi anche psichica e poi anche fisica cioè andremo allo scontro dell'uno contro l'altro la parabola della come cavolo si chiama non lo conosco della della Babilonia di Babilonia dei linguaggi delle lingue di Babilonia è un'esemplificazione ma uno solo parla la lingua per tutti è certo è certo e chi è non lo so è il papa è certo il dono delle lingue non a caso c'è la più grassa stazione radio dove dice trasmittente al mondo quindi l'abbiamo detto anche l'altro ieri allora quindi noi dovremmo lasciare questo messaggio agli amici che ci seguono e cioè leggetevi i libri di Bauman questo è il messaggio no come si dice paratevi a Roma si dice parate paratevi il culo mettetevi in situazioni di non dipendere quanto meno possibile dagli altri isolatevi che hanno fatto gli eremiti alla fine dell'impero che andavano a vivere dentro la grotta e mangiavano quello che che capitava no mangiavano le lucertole e e e e e e e i grilli le bacche come vogliono farci mangiare adesso ad esempio ad esempio questo chiudiamo ma chi è che alleva i grilli scusate non lo so bisogna andare lì e distruggere questi allevamenti no e che cazzo ti vuoi far mangiare lì ma io ti rinfilo tutti i culo i grilli capito buonanotte oltretutto sono indigeribili oltretutto la la come si chiama la materie prima di cui sono costruiti i grilli cheratina cheratina ecco ti immagini gli insetti con la cheratina sono indigeribili certo quindi che te vuoi mangiare che cazzo quando noi mangiamo i no perché ve li cagate tutti non è che ti si ritrattengo in pazzo no li mangiate e li cagate così com'è tritati all'istante all'istante issofatto vorrei capire che tipo di nutrimento vi da che quali proteine quale calorie roba da non credere io vorrei capire chi cazzo gli viene in mente cioè l'analfabeto più assoluto cioè se io dicevo una cosa del genere a mio nonno che era un vecchio contadino rincoglionito che non so che tipo di studio aveva fatto se aveva fatto la quinta alimentare o meno ma avrebbe però si accalci in culo finché non si era consumato il piede vabbè andiamo pace e bene sempre so long so long onore a Priapo